La notizia delle dimissioni del Papa ha fatto il giro del mondo in poco tempo. Il TAM-TAM mediatico ha toccato il più piccolo paese dell'emisfero. Tante le reazioni e i commenti. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente il Vescovo di Modena e Nonantola, Monsignor Antonio Lanfranchi, che è stato in udienza dal Papa a ben sette giorni fa, il 4 febbraio. Mi ha accolto con grandi sorprese, sono molto sorpreso, soprattutto anche per il fatto che ho incontrato il Santo Padre il 4 febbraio, nella visita ad Limina con altri sette confratelli dell'Emilia. Proprio siamo stati ricevuti e abbiamo ci ascoltato, perché ognuno di noi doveva riferire sulla diocesi brevemente, ha ascoltato, ha fatto domande, poi ha sintetizzato, rilanciato. Indubbiamente l'impressione che hanno avuto anche gli altri era di una persona molto affaticata, molto stanca. In questi ultimi mesi è andato molto giù fisicamente, si vedeva dimagrito e anche ricurvo, però di una grande lucidità, quindi di una grande capacità di attenzione, di accoglienza e di lucidità. Più che le dietrologie che non sono sfuggite agli amanti dei social network, vedi il tema elezioni. Personalmente la domanda fatta è legata ad una parola serenità, perché la cosa che ha colpito maggiormente le persone che erano accanto a Benedetto XVI quando ha annunciato le dimissioni da vescovo di Roma è stato proprio lo sguardo sereno che aveva il Papa in quell'istante, come fa una persona ad essere in pace quando prende una decisione così importante. Attenzione, essere in pace non significa prendere le cose a cuor leggero o inconsapevolmente. La serenità, la pace che si vive è un'altra cosa e il Papa ancora una volta lo ha testimoniato quando nelle prime parole del suo discorso ha detto «Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero Petrino». Leggendo e rileggendo questo passaggio si capisce l'origine della serenità, quel legame e rapporto con Dio che il Papa vive ogni giorno e che plasma la personalità e l'umanità di una figura come quella di Benedetto XVI che di fronte alle questioni di grande rilevanza per la vita della fede riconosce tutta la propria incapacità e con libertà rinuncia al ministero. Ci vuole coraggio per riconoscersi così poveri ma allo stesso tempo ricchi di tutto perché si concepisce legati così indissolubilmente già all'origine. Nel sistema dell'accoglienza del mondo sanitario bolognese si aggiungono 20 nuovi posti letto è stata inaugurata infatti la Casa San Giuseppe in Via Toscana 174 a Bologna. «Questa è una casa d'accoglienza che è destinata ad accogliere e accompagnare i malati che vengono a curarsi a Bologna da fuori provincia, spesso da fuori regione. A volte devo dire che questa casa è iniziata con questa particolarità addirittura dall'estero». Cilla opera in città dal 2002 e ogni anno accoglie tra malati e accompagnatori circa 300 persone. «La casa ha a disposizione una ventina di posti letto, possono accedere ovviamente tutte le persone che vengono a Bologna per le cure, in questa struttura abbiamo rapporti ormai essendo presenti a Bologna da più di 10 anni, con questa nuova struttura mettiamo a frutto un po' la trama di rapporti che è nata anche collaborando con altre associazioni che si occupano magari di particolari tipologie di malati e quindi possiamo ospitare tutte le persone che vengono a Bologna a curarsi per periodi brevi, quindi da visite o dei ospita, le persone che invece devono avere magari interventi, ricoveri e quindi per periodi molto più lunghi». 54 milioni di euro è il plafond destinato alle strutture sanitarie dell'area nord della provincia di Modena colpita dal terremoto. È un piano straordinario quello che mettono in campo le due aziende sanitarie modenesi, l'Asle e il Policlinico, e che hanno presentato nei giorni scorsi alla conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia. Oltre al finanziamento per le strutture del cratere, sono previsti altri interventi pari a 75 milioni di euro per la messa in sicurezza e potenziamento dello stesso Policlinico di Modena. Le risorse provenienti da fondi europei nazionali per la ricostruzione e si aggiungono altri 14,7 milioni di euro fondi extra-sisma consentiranno di realizzare interventi di messa a norma e adeguamenti normativi in altri ospedali del territorio provinciale, della Casa della Salute di Modena, ma anche l'ammodernamento del sistema informativo aziendale e di attrezzature e tecnologie sanitarie. Pro Bono Emilia, il progetto No Profita, sostegno delle popolazioni dell'Emilia, colpita dal terremoto del maggio 2012. Un progetto che mostra ancora una volta il grande cuore degli emiliano-romagnoli, illustrato da Davide Gavanelli, amministratore e delegato di Profin, società di consulenza nel settore delle energie rinnovabili che ha sviluppato il progetto. Un progetto di economia solidale, direi, nasce dalle considerazioni che ci hanno portato dopo il sisma del maggio del 2012, quindi per cercare di aiutare delle territori a noi molto vicini che sono state colpite in maniera pesante da quello che è stato il sisma del 2012. Quindi abbiamo nel ruolo di sviluppatore come Profil messo assieme, unitamente ad EWM, tutte quelle che erano le competenze di cui eravamo in grado di conoscere le capacità sul territorio, quindi parliamo di imprese molesi che si sono messe in rete per realizzare un progetto che consentisse la costruzione di due impianti fotovoltaici nel comune di Lugo. Una logica precisa, ognuno ha rinunciato a una parte dei propri profitti per cercare di creare un oggetto che fosse in grado di donare gli utili che montano circa mezzo milione di euro per i prossimi vent'anni a favore della ricostruzione nei comuni delle tare d'argine. Ha fermato una convenzione tra il soggetto responsabile che è una società di veicolo detenuta da Energia Verdi Investimenti 6 a favore del comune di Solliera e tramite questa convenzione verrà regolata una donazione di anno in anno per i prossimi vent'anni per la durata del conto Energia. Iniziava così una famosissima canzone di Mina ma forse l'estate 2013 non sarà la stessa dell'anno passato per la città di Rimini. Dopo la linea dura voluta dall'amministrazione comunale di concerto con la locale procura tutti i bagnini della città romagnola sono stati costretti a smontare tutte le attrezzature e accessorie che fino a ieri rendevano più confortevole e divertente la permanenza sulle spiagge dei turisti della Tintarella. Parliamo di passerelle, gazebo, campi da gioco e di vari altri tipi di allestimenti oggetto nel corso dei mesi di svariati sequestri da parte dell'autorità giudiziaria. Dopo decenni di non belligeranza tra operatori e comune dovuta più che altro ad una non poca confusione normativa in materia si è deciso che ogni manufatto dovrà essere autorizzato uno ad uno ma solo dopo la sua totale rimozione. E ad oggi sono oltre 350 le richieste prevenute agli uffici comunali che dovranno decidere come i bagnini potranno allestire gli spazi in concessione con il serio rischio di non fare in tempo considerato che generalmente il litorale viene preparato già nel mese di maggio. E dopo la proposta shock di applicare l'imo anche su cabine e ombrelloni si prospetta una stagione estiva complicata per i bagnini riminesi che potrebbero essere costretti a non offrire la stessa qualità del servizio che ha reso celebre le nostre spiagge. Nella speranza per tanti turisti di ritrovare la stessa spiaggia e lo stesso mare di sempre. Situazione dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, situazione attuale, dottor Franco Rusticali che è stato presidente della SEAF, la società che gestisce l'aeroporto di Forlì come andrà a finire questa storia secondo lei? Intanto ovviamente io sono al di fuori quindi so un po' le notizie che sanno tutti poi dirò il mio parere in base all'esperienza che ho. Intanto l'augurio è che tutto possa andare a finire bene cioè che un privato acquisisca l'aeroporto in modo tale che non chiude e non fallisca. La mia impressione è che le cose non vanno affatto bene c'è stata un'ulteriore dilazione del bando di gara fino mi pare al 25 marzo nessuno si è presentato finora dicono che esserci dei contatti ancora così piuttosto generici però la mia impressione è che purtroppo per l'aeroporto di Forlì si è finita. Fine 2010, inizio 2011 avevamo già fatto un bando di gara e c'era stato un interesse preciso da parte della SAVE che è la società che gestisce l'aeroporto di Venezia che è il terzo aeroporto italiano come importanza. Evidentemente l'ingresso di SAVE nel nostro aeroporto in maggioranza o acquisendolo del tutto non è andato bene soprattutto ai nostri politici e ai politici regionali perché naturalmente era un intervento pesante che poteva mettere l'aeroporto di Forlì in concorrenza anche con quello di Bologna e quindi è stato fatto di tutto perché SAVE non entrasse. Una normale esercitazione di sicurezza si trasforma in tragedia in Spagna cinque persone sono morte e tre sono rimaste ferite dopo che la scialuppa su cui si trovavano è caduta in mare la barca di salvataggio si è staccata da una nave da crociera inglese ormeggiata nel porto di Santa Cruz della Palma, le Canarie le vittime facevano parte dell'equipaggio si tratta di tre cittadini del Ghana, di un indonesiano e di un filippino al momento dell'incidente a bordo della nave c'erano circa 2000 passeggeri Il rombo inconfondibile delle Harley Davidson ha risuonato per le strade di Cuba la spiaggia di Varadero è stata nel weekend teatro del secondo raduno nazionale delle celebri motociclette due giorni di festa che hanno attirato appassionati e non da ogni angolo dell'isola sotto il forte sole hanno brillato le carene di oltre 200 modelli per lo più costruiti tra il 1940 e il 1950 Premiazione al maschile quella della 55esima edizione dei Grammy Awards consegnati ieri sera a Los Angeles ai New Yorkesi fan il premio rivelazione dell'anno oltre a miglior canzone, album e interpretazione rock per We Are Young ai londinesi Mumford & Sons il Grammy al miglior album dell'anno per Babel mentre l'australiano Gotie vince tre premi miglior album di musica alternativa Making Mirrors oltre al miglior duo pop e miglior incisione per somebody that I used to know Un anno senza Whitney Houston ma la sua musica continua ad emozionare era la notte tra sabato e domenica di 12 mesi fa quando venne diffusa la notizia che avrebbe fatto piangere il mondo della musica e non solo la cantante americana veniva trovata morta in un hotel di Los Angeles annegò nella vasca da bagno dopo aver ingerito un cocktail di alcol e farmaci aveva 49 anni era stata soprannominata The Voice per le caratteristiche uniche della sua voce Parliamo oggi di animali ma di animali che hanno avuto dei problemi insomma parliamo di emergenza veterinaria e lo facciamo proprio con il responsabile della sanità animale dell'igiene veterinaria dell'azienda USL di Imola il dottor Geremia Dosa che cos'è l'emergenza veterinaria e chi si può rivolgere a questo servizio? Benissimo, intanto distinguerei almeno due grossi ambiti uno, per gli animali di proprietà, cani e gatti di proprietà l'emergenza deve essere gestita dal proprietario o chi detiene l'animale in quel momento attraverso il proprio veterinario di fiducia quindi il medico veterinario libero professionista al quale ci si rivolge abitualmente e che possibilmente offra anche un servizio di emergenza e quindi di primo intervento non possiamo parlare di organizzazioni di veri e propri pronti soccorsi perché ci parlerebbe di un intervento strutturato ma sicuramente di pronta disponibilità anche in orari e giornate di non apertura del proprio ambulatorio per quanto invece riguarda le emergenze che interessano la sanità pubblica e quindi il veterinario del Servizio Sanitario Nazionale le facciamo ricadere su due grossi ambiti quelli degli animali della produzione primaria e quindi gli animali che sono destinati a produrre alimenti e per i quali per problemi infettivi ma anche emergenze che possono essere lo stesso come un incendio, un allagamento o addirittura ho colleghi che in questo momento operano nelle aree del terremoto ad esempio il primo intervento su queste popolazioni di animali destinate a produrre degli alimenti ricade, è supervisionato dalla sanità pubblica sugli animali da compagnia noi veniamo chiamati soltanto in alcuni casi particolari cioè nell'animale a cui succede un incidente in genere sulla pubblica strada per il quale non sia rintracciabile immediatamente il proprietario in questo caso ad attivarci sono per lo più le forze dell'ordine carabinieri, polizia o polizia municipale che intervengono sul luogo e il nostro intervento non è finalizzato esattamente alla cura ma al recupero dell'animale, al primo soccorso e operiamo in genere questa attività tramite i canili convenzionati quindi è un'attività di recupero, sgombero e prima assistenza dell'animale incidentato è chiaro che se in questa attività poi viene definito che quell'animale ha un proprietario verrà di nuovo fatto riferimento a lui per tutto quello che è poi il recupero dell'animale e la prosecuzione delle cure perché ogni proprietario ha la responsabilità anche dello stato di salute e dello stato di detenzione dell'animale che possiede in aggiunta a questo per rendere un pochettino più sussidiaria la situazione perché dobbiamo essere chiari non esiste una norma unica a livello nazionale e quindi non è stata attivata e non è competenza delle ASL attivare servizi di cura a favore degli animali di proprietà però alcuni territori alcuni comuni come quello di Imola e del circondario hanno attivato comunque una guardia zoiatrica cioè un numero telefonico di riferimento a cui risponde un veterinario libero professionista quindi non facente parte della ASL che interviene per problematiche anche in orari in cui gli ambulatori solitamente sono chiusi e quindi non offrono servizio è un po' un'attività che non è coperta con una certezza e con un po' di ambiti però per noi è abbastanza ben delimitato fin dove possiamo arrivare non siamo responsabili del dover erogare cure su animali di proprietà i nostri compiti sono sempre relativamente alla tutela delle produzioni e quindi degli animali che saranno destinati a produrre alimenti che vanno tutelati sia come cura sia come modo di essere allevati e quegli animali che ricadono sotto la diretta competenza delle amministrazioni dello Stato che sono i selvatici in quanto proprietà dello Stato non disponibile a nessuno e gli animali che non hanno un proprietario cani e gatti randagi o liberi sul territorio che ha bisogno di essere catturati con feriti in canile ed eventualmente curati questo diciamo ho circoscritto un pochettino quello che è il nostro compito ecco abbiamo fatto un po' di chiarezza proprio per far capire che emergenza veterinaria non vuol dire pronto soccorso per piccoli animali no assolutamente questa è un'attività tipicamente svolta dai liberi professionisti che investono appunto la loro imprenditorialità per coprire un'attività anche al di fuori degli orari dei normali ambulatori che quindi garantiscono poi dopo il servizio dal loro offerto noi rimaniamo sulla salute degli animali che producono alimenti delle loro produzioni quindi potrebbe essere un altro esempio tipico oltre a fatto gli esempi delle emergenze più gravi incendi terremoti o incidenti stradali che coinvolgono trasporti di animali ma potrebbe essere anche il rintraccio di una partita di alimenti di origine animale che ha presentato una non conformità e deve essere rintracciata il più presto possibile questo sistema si chiama Allerta e abbiamo anche su questo una metodica che ci consente anche in reperibilità di gestire il rintraccio e recupero di queste ipotesi di pericolosità allora insomma in caso di bisogno di emergenza per i nostri piccoli amici gatti e cani è bene rivolgersi al nostro medico veterinario di fiducia un grazie allora per questa precisazione al dottor Geremia Dosa che è responsabile della sanità animale e dell'igiene veterinaria dell'Ausletimola grazie a tutti